Edouard Munch. Edouard Munch nacque a Lothen, in Norvegia, il 12 dicembre 1863, da Laura Cattelin Bjolstadt, figlia di Andres Larsen Bjolstadt e Inger Marie Hansdotter, e Christian Munch, figlio del pastore Edward Storm Munch e di Joanne Sofie Hofgaard. Edouard ha il secondo di cinque figli, Joanne Sofie, la sorella maggiore con la quale instaurerà un rapporto di grandissimo affetto, Peter Andreas, Laura Cattelin e Inger Marie. Sui parenti erano anche il pittore Jakob Munch e lo storico Peter Andreas Munch, fratello del padre. La famiglia si trasferì a Christiania, l'odierna Oslo, nel 1864, quando Christian Munch venne impiegato come medico presso la fortezza di Akersus. Sin dalla fanciullezza Edward fu provato da una serie interminabile di disgrazie familiari. La madre morì di tubercolosi nel 1868, seguita da Joanne Sofie nel 1877, che ispirò stroncata dalla stessa malattia. A curarsi del giovane Munch dopo la morte della madre vi erano il padre e la zia Karen. Fu in questo periodo che il giovinetto iniziò ad interessarsi all'arte, disegnando per tenersi occupato nei momenti di stasi. Nel frattempo Christian Munch, per superire alle varie assenze fatte dal figlio a scuola per motivi di salute, avviò la sua formazione in ambito storico-letterario, introducendolo anche alla dimensione horror psicologica dello scrittore statunitense Edgar Allan Poe. Edward però non fu l'unico a rimanere afflitto dai due gravi lutti. Anche il padre Christian iniziò a diventare più malinconico, cadendo vittima di un pietismo morboso e di una sindrome manioco-depressiva. Allo spirito di Edward non giovò di questo ambiente, i vari incubi e le numerose malattie, così come il comportamento quasi psico-naverotico del padre, lo segnarono profondamente, inculcandogli quella visione macraba del mondo che lo renderà poi celebre. Questa interpretazione della realtà fu stimolata anche dalla pazzia di Laura, che iniziò ad essere affetta da crisi psichiche e dal trapasso del fratello Andreas, che morì immediatamente dopo il suo matrimonio. Munch avrebbe poi scritto e ereditato due dei più spaventosi nemici dell'umanità, il patrimonio della consunzione e la follia. La paga percepita dal padre era molto bassa, eppure essendo sufficiente per i bisogni primari, mantenne la famiglia in uno stato di parente povertà. Le primissime esperienze artistiche di Munch riprendono i disagi economici che affliggevano la famiglia, raffigurando gli interni di quegli appartamenti degradati dove erano costretti a vivere.